Dai Sta passando, sta passando Brava, là, ma che vengono mi vedi a un lato sto Con Marilu Sì, siamo io e Marilu e basta, quindi prezzo che ci vedi Stanno arrivando Eh, perché stanno allo stadio Dai, ma se mi vedi, voi vedi, io saluto Stanno arrivando i poliziotti, ah? Dai, sa Marilu, saluto, va Che ti parlo, ma sta con me ria Ci vedono in tv No, ma mettiamo su YouTube No Eh, spieghiamo passano così, là Vai Vai Marilu, saluto, va Marilu, saluto, va Alla stadio, rinunca Corri dietro Sì, è morto Ma c'è stato il gruppo dietro Sì, 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 sì Infatti, però stanno passando dalla parte a posta Ma arrivano gli altri Stanno andando dalla parte a posta che siamo andati noi Quindi secondo me faranno il giro largo Ma è passato il primo gruppo Non può passare il giro largo Eh, dunque